Signori, sulle mani, un grosso applauso ancora a Massimo e a sua moglie! Ehi, adesso come stai? Tradita da una storia finita, e di fronte a te, l'ennesima sanità, un po' ti senti sola. Allora, qui in questo teolo si può leggere un numero di telefono dove potete mandare gli auguri a Massimo e magari dite la vostra. Io, durante la serata, li leggerò. L'ultimo numero che non si vede è il 6, 496. Sì, ce ne sono altre coppie che si vogliono leggere a Massimo e a sua moglie? Ce l'abbiamo con qualche altra coppia? Fratello, dove è stato il dato di Massimo? Non c'è stato il dato di Massimo? Eh, qualche altra coppia, dai! No! No! No!